Urge riaprire la cucina dell'ospedale e approvare i lavori per la sistemazione del laboratorio analisi dell'ospedale Santa Maria della Speranza, scrive il candidato sindaco Uco Tozzi, che chiede gli interventi alla direzione strategica e al comune di Battipaglia e al presidio ospedaliero. Per la cucina è stata espletata la gara d'appalto, scrive Tozzi, che aggiunge, la ditta vincitrice è la serenissima che ha l'obbligo di fare la manutenzione ordinaria per il ripristino dei locali. Noi chiediamo che vengano accelerate le procedure per rimettere la cucina a lavorare, così l'utenza potrà avere pasti caldi e di sicuro più buoni di quelli che adesso vengono da fuori. Poi passa all'autorizzazione dei lavori di sistemazione e amplimento del laboratorio analisi al primo piano. L'ASL ha completato l'iter e ha inviato i documenti in comune per avere l'autorizzazione, autorizzazione che al momento non è stata ancora data e così rischiamo di perdere altri fondi ed il macchinario che potrà processare ben 400 tamponi molecolari giornalieri. Infine chiede la tempistica per l'arrivo delle figure professionali garantite e rimarca che in generale mancano infermieri, strumentisti al tavolo operatorio, medici, ostetriche e os.